Vecchio, senti una cosa, papà. Non mi piacciono le femmine. Mi piacciono i stummi. Io a me non mi piacciono i stummi. Mi piace la cutoletta, iya iya. Mi piace la cutoletta, iya iya. Mi piacciono i stummi? Accattatevi i gommi che stummi? Stummo! Vivi dentro stum. Sapore di stum. A che spazio hai chiesto? A tuo ex e zeta. Sì, ma chi vuole ancora? Io non l'hai caputo. Chi è che vuole? Raul Bova vende queste minghe. Io ancora ingazzata. Ci faciste con una casuata. Davvero? Non mi ruolo. Chi dà invece Rossella? Alla stessa per sua nonna, femminile. Ricarica 20 euro e potrai incontrare anche tu Raul Bova. Con 50 euro invece tu rialamo con tutti i scappi. 3. Special Edition. Ora mi fa solare una pari annati e a chiuderemo dopo. Quando è che so? 9 milioni. Io te lo soppare tutti. Ehi. Io sogno Poppo. E' che spazio c'è, Conte? Fratelli. Mezzo Pippo ho inventato un cellulare. Ora potremmo sparare minchiate la mattina anzina sera. E minchia. Ehi. 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 i soldi per la macchina. Non da accattare. Rammilla è mia. Allora che volete mangiare con noi? Con il più gelato. Gelato? Ma io voglio bollo. E non ce l'abbiamo. E un pochi sassizzi? Non ce l'abbiamo. E un pochi sassizzi? E un pochi sassizzi? E un pochi sassizzi? A me c'è un pochi sassizzi? C'è quelli che c'è il problema, eh? Ehi板 è una colla... con chi sta qua... Metàfe ensigni ai draghi. Jaaa are bella! Un pochi sassizzi. Dolly. Che mi cos'è oltre questo? E neanche un pochi sassizzi proprio. Ehi. O stoppeding di Prima. Da lì. Aheh e he èE Ho HO. Non si staccavi anche i draghi. La gioca non ti basta più... un momento. Art красità Grazie a tutti. Grazie a tutti.